salve a tutti ragazzi sono ancora io e benvenuti in questa nuova puntata di minecraft presente la terza vi avevo lasciato con il crafting del letto adesso è notte aspettiamo posiamo un po di robina qui dentro e poi ce ne andiamo a visitare il villaggio ce l'abbiamo in legno per fare una cesta si ci sta ci sta allora facciamo il legno per una cesta non so perché sto usando questa legna potevo usare benissimamente quell'altra posiamo un po tutta sta roba la spada ce la portiamo il piccone di bronzo pure la pala posiamo questa fornace non ci serve tin il legno ce lo portiamo questa torcia noi dobbiamo fare altre prendiamoci questo bastoncino la lana non ci interessa ok dobbiamo cuocere qualcosa no facciamo giusto qualche torcia da mettere in casa vediamo allora mettiamo una qui una qui una qui e una qui giusto agli angoli e andiamo a dormire giusto una bella nottata buongiorno eccoci qui usciamo dalla porta e non dalla finestra perché non si fa perché qui non mi carichi il mondo carica il mondo bravissima andiamo a vedere il villaggio aspetta segniamoci la casa perché minecraft è uno dei luoghi più facili in cui uno ci si può perdere mettiamo barracca perfetto che alla fine non la definirei casa ma una piccola barracca dove stare per un po' giusto il tempo di prendere un po' di materiali perché la casa decidere come oddio sto morendo di fatto giusto per decidere come fare la casa come farla magari con qualche vostro consiglio di legno di pietra di qualche materiale pietra nera pietra rossa pietra nera e pietra rossa ancora non l'abbiamo trovate però speriamo di trovarle presto perché io amo la pietra nera uh si era spenta la luce vediamo un po' che cosa ci danno questi villageri vediamo se gli diamo due emeraldi ci danno un caschetto di pelle interessante se gli diamo della graveller più un emeraldo quattro selci cioè quattro flint chiediamo sta porta vediamo un po' qui che c'è oh gli apiari questi qui ci possono interessare più avanti non sono un amante delle api uh che cosa ci ha dato? la tropical queen non sono un amante delle api però sono sempre impianti che possiamo fare ci ha dato una modest andiamo un po' andiamo fuori tu che cosa ci dai? se ti diamo una principessa ci dai un emeraldo noi ci abbiamo due queen ci abbiamo mi dispiace se ti diamo un emeraldo uh perfetto perfetto un altro fabbro uh c'è anche il fabbro se ti diamo otto ori ci dai un emeraldo oh togliti davanti non penso che ci interessi uh ecco questa roba ci interessa un blocco di stile allora l'elmetto ce lo mettiamo assolutamente la spada di ferro vabbè ce la teniamo le fornaci questa volta le lasciamo perché non ci interessa non so che senso abbia mettere della terra in in una casa prendiamo altre patate che possono sempre servire strano non abbiamo trovato ancora le carote anzi no le carote ci sono ma non sono ancora pronte allora veniamo un po' finiamo di di vedere oh c'è del petrolio in mezzo a un villaggio wow che originalità vediamo un po' qui dentro vabbè non c'è assolutamente nulla oh vediamo che ci da quello con il oh dove scappi vieni qui tu che cosa ci dai se ti diamo 16 bistecche ci dai un emeraldo non so a cosa cosa possa servirci un pozzo vabbè torniamo a casa guardate quanto è bello l'effetto del white point oh 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 ragazzi guardate cosa abbiamo trovato uno dei dungeon che si trovano all'aria aperta wow c'è anche una campanellina della della di minecraft oddio quella ci apre il sederino ragazzi questo ce lo segniamo perché è molto interessante spawner scriviamo spawner perfetto guardate quanto è bella questa lucetta si vede anche da lontano oddio carica il mondo beh un attimo che controllo quanto ho registrato eccoci qui abbiamo registrato 5 minuti beh facciamo altri 4 minuti giusto così allora abbiamo fatto una casa cioè una casa una piccola baracca io direi che mi preparerei per andare in caverna posiamo quest'altra roba tipo la testa di schieto tutta questa robaccia allora posiamo i semi gli apiari il blocco di still non ci interessa questi qui non sono cumulabili per cui facciamo un'altra cesta e ci prepariamo per andare in caverna abbiamo bisogno di altra pietra perché non ne abbiamo più perché non possiamo fare nemmeno gli attrezzi allora posiamo questo questo carbone ce ne portiamo solo la metà per le torce posiamo anche questa qui perfetto abbiamo un piccone di oddio lag abbiamo un piccone di bronzo per cui non abbiamo bisogno per ora di farci il il piccone di ferro andiamo a prendere un po' di pietra qui c'è della pietra no non capisco perché devo farmi i buchi davanti a casa però vabbè che ci interessa alla fine questa è solo una sistemazione momentanea vabbè prendiamo il piccone cominciamo a farci un po' di pietra questi cristalli nella vecchia non servivano a niente vediamo un po' adesso a che cosa servono prendiamo la U non servivano a nulla nella vecchia effettivamente vediamo se qui gli hanno dato un senso si possono fare i blocchi no liquid detector non vi so dire assolutamente che cosa siano vabbè poi li faremo penso serviranno pure a qualcosa allora prendiamo un po' di pietra giusto per fare qualche piccone per poi andarcene in in cave oh abbiamo trovato acqua vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante qui dentro se no chiudiamo il buco e ce l'andiamo non vedete niente sicuramente voi ecco qua mettiamoci qualche torcia no ma non vedo assolutamente nulla di interessante usciamo e richiudiamo perfetto prendiamo un altro po' di pietra e andiamo andiamo sopra facciamo i picconi poi ci vediamo nella prossima puntata e andiamo in caverna magari partirò direttamente dalla caverna dopo averla trovata in modo da non annoiarvi facciamo i picconi la spada ne facciamo giusto un'altra per sicurezza facciamo tre picconi perfetto metto i picconi facciamo un'altra spada e magari ci facciamo pure un'accetta dai quella di legno è quasi finita anche perché quella di legno non ha molti usi perfetto posiamo le patate anzi no le patate le mettiamo a cuocere possono sempre servire anche perché abbiamo giusto quattro patate per mangiare qui abbiamo altre otto b-stick posiamo questa spada questa la spada ci mettiamo questa il piccone togliamo questo sistemiamoci un po' di inventari in modo che siamo pronti abbiamo anche la tamium potremmo farci una spada di tamium vabbè però adesso la lasciamo così mettiamo una mangiare spada mettiamoci la pala materiale per costruzioni perfetto le torce dimenticavo di mettere le torce questo qui non ci serve possiamo anche usarlo beh facciamo una cosa prendiamo le patate e vi saluto con una patata in mano ci vediamo nella prossima puntata ciao ragazzi ciao ciao